ciao a tutti oggi prepareremo la cioccolata calda aromatizzata alla vaniglia il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa gli ingredienti sono cioccolato fondente cacao amaro latte zucchero semolato una bacca di vaniglia e fecola di patate diamo il via la ricetta iniziamo mettendo nel boccale lo zucchero la fecola di patate il cacao amaro e i semi della bacca di vaniglia adesso polverizziamo il tutto per 15 secondi a velocità 10 con l'aiuto da una spatola riuniamo sul fondo del boccale adesso aggiungiamo il cioccolato fondente e il latte mescoliamo per 15 secondi a velocità 10 adesso andiamo a cuocere per 8 minuti 90 gradi velocità 2 la nostra cioccolata è pronta andiamo a mettere in una tazza cioccolata calda aromatizzata alla vaniglia grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie 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 Grazie.